Bene ragazzi, un'anteprima molto veloce ma significativa e ricca di contenuti per questo match che ci attende. Venerdì entrano in campo, quindi domani, Novak Djokovic, Lorenzo Musetti. Ripetizione della partita già giocata al Roland Garros, di cui avevo fatto l'analisi e avevo approfondito quelle che erano state le dinamiche della partita. Musetti ha qualche speranza di vincere questa partita e arrivare in una storica finale a Wimbledon a modo di fare quello che in tanti hanno sperato potesse fare Yannick Sinner che invece ha dovuto cedere passo a Daniel Medvedev dopo una grande partita da parte del russo e qualche problemino fisico da parte di Sinner. Prima di cominciare mi raccomando, metti un bel mi piace, iscriviti al canale e sostieni la community, sostieni il canale. Abbonati al canale, diventi un super fan, fai una donazione, fai la tua. Detto questo, molto brevemente, secondo me Musetti purtroppo non ce la farà. E non per fare l'uccello del malaugurio, ma sono convinto che, come ho detto nel video precedente, Djokovic arriverà in finale. Questo lo pensavo indipendentemente dal fatto che Musetti potesse vincere contro Frizzo, ho registrato il video quando ancora i due stavano, per esempio, giocando e nessuno aveva buttato un euro sulla vittoria di Lorenzo Musetti su Taylor Flitz che ha sorpreso per primo a me. Non perché non stimi o non ammiri il giocatore Lorenzo e la persona Lorenzo Musetti, anzi, devo essere onesto, lo preferisco anche a Sinner per come gioca, per le sue qualità. Ho avuto modo di stargli vicino durante il Sardegna Open, mi è piaciuta tantissimo come persona. Non è come appare, ok? Non lo so, mi ha dato delle ottime sensazioni proprio come persona, per quanto come giocatore abbia dei margini di miglioramento sicuramente enormi su cui deve intervenire. Però, fuori da ogni dubbio, il fatto che sia cresciuto tantissimo negli ultimi mesi, abbia toccato livelli che forse non aveva mai raggiunto o ha raggiunto negli anni precedenti, veramente a sprazzi, ricordo la vittoria del torneo di Hamburgo e altri risultati memorabili dove ha battuto male dei giocatori di carattura molto elevata. Il problema qual è? È che abbiamo di fronte un Djokovic in ascesa. Lo dicevo nel video precedente, sostanzialmente lui è riuscito partita dopo partita a trovare un livello che contro Rune ha dimostrato essere molto vicino al miglior Djokovic del 2023. E questo può diventare un problema perché Musetti non affronta un Djokovic come quello visto al Roland Garros dove Musetti aveva giocato un tennis in spinta, molto aggressivo, propositivo, molto vicino alla riga di fondo, giocando libero, tra virgolette, ok? Poi c'era stato un calo profondo a livello fisico e la partita era cambiata verso la fine, tant'è che Djokovic vinse in 5-7 in quell'occasione. Memorabili commenti del suo angolo, 10 minuti ed è a casa, è cotto, è andata come è andata. Ma Djokovic portò a casa la partita. Quindi Musetti, cosa deve fare per vincere questa partita? Ha una chance. Se vuole avere una chance deve servire molto bene perché Djokovic sarà incisivo soprattutto sul servizio. Musetti deve stare attento sulla diagonale del rovescio perché non c'è storia. Rovescio a due mani contro rovescio a una mano e rovescio a due mani, quello di Djokovic, uno dei migliori se non il migliore del circuito. Quindi quella diagonale sarà pericolosissima, dovrà prediligere la diagonale del diritto perché è lì che qualche errore di troppo può arrivare da parte di Djokovic ed è lì che Musetti può fare la differenza per quanto purtroppo non siamo sulla terra ma siamo sull'erba. Il fattore impugnatura western da parte di Musetti può essere un problema che è più estrema rispetto a Djokovic che di suo comunque non ha un'impugnatura conservativa abbastanza aperta ma non tanto quanto quella di Musetti. Per di più Musetti ha un'apertura molto ampia che potrebbe mandarlo un po' in crisi nella gestione dei punti soprattutto veloci in virtù proprio del fatto che giochiamo sull'erba. Quindi io prevedo l'uso dello slice da parte di Djokovic sul diritto di Musetti per renderle difficile tirare su una palla da terra. Prevedo una ricerca continua del rovescio con palle cariche per rendere difficile la vita di Musetti che appunto come sapete gioca un bellissimo rovescio a una mano con tutti i suoi limiti però. Prevedo un Djokovic che diciamo così probabilmente verrà spesso a rete cercando anche di accorciare i punti perché l'operazione al menisco l'ha avuta per quanto abbia recuperato, per quanto abbia saltato una partita quella contro Deminaure quindi ha meno ore di gioco rispetto a Musetti che comunque ha corso tanto, ha dato tanto. Ho paura che Musetti possa percepire un po' e questa paura già l'avevo per i quarti di finale ma ancora di più ho paura che possa percepire la paura l'ansia da prestazione giocandosi una partita così importante la semifinale di Wimbledon la possibilità di fare la storia per quanto già l'abbia compiuta insieme a Sinner e Pietrangeli hanno raggiunto insomma questo grande risultato di Wimbledon insieme alla Paolini chiaramente che ragazzi gioca proprio questo pomeriggio contro Donna Vekic quindi Musetti può avere qualche chance ma veramente risicata ecco per vincere questa partita Djokovic deve tornare quello di inizio anno quello che abbiamo visto essere così spento anche se meno matto anche se con un problema fisico in via di risoluzione sicuramente secondo me è favorito e dall'altra parte del tabellone Alkeraz-Medvedev io vedo favorito Alkeraz vedo favorito per il torneo proprio lui secondo me sarà una ripetizione Djokovic-Alkeraz e lì vediamo che succede ne parliamo in un altro video preview della finale e vediamo di capire partita dopo partita che succede ma ditemi ora qui voi secondo il vostro punto di vista che cosa succederà come affronterà la partita Djokovic come affronterà la partita Musetti soprattutto chi vincerà in quanti set io mi sbilancio prevedo un Djokovic in 4 set e vediamo che succede grazie a tutti